Commercio e turismo continuano a soffrire degli effetti della crisi con la tanta auspicata crescita che invece latita. I dati Istat e quelli confesarcenti fotografano un'Italia in piena recessione nonostante le rassicurazioni del governo. Da gennaio a dicembre 2013 hanno infatti cessato l'attività 72.367 imprese nei settori del commercio, dell'alloggio e della ristorazione per un saldo finale negativo di 22.748 aziende perdute per sempre. Un'emorogia conseguente al prolungarsi della crisi del mercato interno e confermata dai dati Istat sulle vendite che registrano nel 2013 un calo del 2,1%. A fare ancora più impressione è il dato che tra le grandi nazioni europee siamo gli unici ancora in crisi. Germania, Francia, Regno Unito e Spagna sono ripartite, l'Italia invece no. A soffrire di più è il settore della moda con le imprese attive nel dettaglio mode tessile che vedono addirittura 9.803 chiusure con un bilancio in perdita di 5.330 unità. Il settore della ristorazione però non sta meglio. Questo 2013 ci ha privati di ben 3.586 ristoranti e 2.995 bar. I saldi negativi dell'anno appena concluso si segnalano anche nelle imprese attive nel commercio carburanti meno 1.180 e per quelle del commercio di giornali riviste periodici meno 696. Qualche settore in crescita comunque c'è. Tra le imprese cresce il commercio fuori dai negozi ovvero gli ambulanti che mettono a segno un saldo positivo di 3.334 unità ed anche l'e-commerce ovvero il commercio via internet che fai segnare un saldo positivo con 530 nuove aziende. L'alto numero di chiusure registrato spiegato Massimo Vivoli vicepresidente vicario di Confessorcenti dimostra quanto sia complicata la vita degli imprenditori debuttanti soprattutto se non hanno potuto beneficiare di un'adeguata formazione in particolare in un mercato così asfittico come quello interno italiano. Per quanto riguarda il saldo apertura e chiusura di negozi la Sicilia regista il risultato peggiore con la sparizione di 2.297 attività tra gennaio e dicembre. Al secondo posto si classifica invece la Campania con un saldo di 2.099 imprese chiuse seguita dal Lazio. Se l'emoragia di imprese del commercio dettaglio in serie fissa sembra essersi concentrata più sulle regioni meridionali nell'alloggio e somministrazione la situazione è inversa a registrare il saldo peggiore è infatti la Lombardia con 752 imprese in meno seguita da Emilia Romagna meno 728 e Piemonte meno 712.